Nel Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro si è celebrata l'ottava giornata nazionale per l'ASLA, un'iniziativa organizzata in tutta la penisola italiana dall'aisla, con l'obiettivo di raccogliere fondi necessari sia ad aiutare una ricerca che fino ad oggi ha fatto ben pochi passi in avanti per trovare una possibile soluzione alla degenerazione neuromuscolare che costringe chi ne è colpito ad una quasi vita, sia a portare avanti i progetti di sostegno a favore di famiglie e pazienti. Il Centro Clinico San Vitaliano, che rappresenta l'unica struttura calabrese che accoglie e si prende cura di pazienti affetti da SLA, in occasione della giornata di sensibilizzazione ha voluto rompere i muri del silenzio, dedicando a pazienti e famiglie un momento di spettacolo d'altri tempi, aprendo le porte al gruppo storico Città di Catanzaro, associazione storico-culturale che ha come obiettivo quello di divulgare la cultura sulla storia della città attraverso vari eventi. Nobili dame, maestri d'armi, sbandiratori, menestrelli e suonatori in assontuosi abiti d'epoca hanno animato i reparti del Centro Clinico. All'iniziativa era presente il presidente del Centro Clinico San Vitaliano, Alfredo Citrigno, il direttore sanitario Giuseppe Mancuso e la rappresentante dell'Isla Catanzarese, Antonella Nistico. La SLA è una malattia neurodegenerativa che registra circa 6.000 casi in Italia. Ad oggi le cure farmacologiche hanno sortito a ben pochi effetti ed è quindi di vitale importanza la presenza di centri specializzati come il San Vitaliano, che oltre a fornire cure ed assistenza residenziale, si occupa anche del supporto in domiciliare dei pazienti. Sì, il Centro San Vitaliano è l'unica struttura specializzata in Calabria ad assistere i pazienti affetti da SLA. La SLA è una malattia che registra 6.000 casi in Italia e circa 200 nella nostra regione. Le cure farmacologiche non stanno dando le risposte attese ecco perché strutture d'eccellenza e strutture specializzate come queste sono fondamentali. Il Centro Clinico cerca di dare risposte ai pazienti, alle famiglie dei pazienti nel migliore dei modi offrendo un servizio professionale altamente qualificato. Fondamentale perché l'Aisla è di supporto alle famiglie prima che ancora al paziente perché ci sono attorno a questa malattia una serie di burocrazie che sono a volte difficili da superare e se non si conoscono bene i requisiti di queste norme è davvero difficile. L'Aisla ha un grande supporto in tal senso e non solo in questo senso ma anche con tanti altri servizi e qui da noi un paio di mesi fa abbiamo attivato il punto ascolto nato con la collaborazione appunto tra il Centro San Vitaliano e l'Aisla.